Le opere di Carlo di Scinto sono direi centrali in questa mostra, infatti sono poste al centro dello spazio espositivo, perché evocano, diciamo, dei panorami inquietanti, così come sono inquietanti queste creature, in questo caso degli squali, che però sono stati geneticamente modificati come ci dice il titolo dell'opera. E quindi da una parte restiamo colpiti dal fatto che delle uova di squalo possano schiudersi su una spiaggia, sulla sabbia, anzi direi che il vicino ci convince di questo, soprattutto per la perizia tecnica con cui sono fatte queste opere, con dei dettagli talmente realistici che ci ingannano. E quindi è come in un film horror, oppure in un film di questi, delle tragedie che sono stati fatti, però ci coinvolge a tal punto che ne restiamo scossi. Tant'è vero che in un secondo tempo poi ripensiamo a questo che stiamo vedendo e avviene quello che nella metafisica e nel surrealismo si chiama straniamento, cioè praticamente abbiamo due input contrapposti che si combattono. E quindi dopo aver quasi amato queste creature che stanno venendo fuori alla vita, stanno lottando, poi ci chiediamo ma che cosa ne verrà fuori, quale sarà il nostro futuro? la stessa cosa che viene guardando questo grande uovo che poi si chiama Alien Life e quindi chiaramente c'è un'allusione alla vita aliena, qualcosa di cui noi non sappiamo assolutamente niente. Però anche qua ci troviamo davanti a qualcosa di estremamente elaborato ma realistico. E allora ci domandiamo ma sarà possibile una cosa simile? Tanto più che poi tutto quanto, tutta quanto questa installazione, è appoggiata sulla paglia richiamando la natura. Questo è un tratto dell'opera di Carlo Ricillo, cioè mescolare PVC, catrame magari recuperato, catrame del lavaggio delle petroliere a largo che poi arriva sulle nostre coste e anche elementi naturali come la sabbia che abbiamo visto oppure la paglia. E in questo caso secondo me il discorso della nascita è anche associato a una nascita, un'altra nascita illustre, quella di Gesù che fu messo in una mangiacopia tra la paglia. E queste associazioni anche per noi sono inconscie, per cui l'archetico ambientale che propone Carlo Ricillo è un archetico che da una parte ci affascina dall'altra ci angoscia, così come in questo diciamo acquario che è una sorta di loculo dove è costretto un povero squalo, tra l'altro inoffensivo. Poi c'è uno scheletro non meglio identificato e qui il nostro senso di inquietudine aumenta. Aumenta perché il fondo marino è ricostruito ad hoc con delle cozze e delle conchiglie, la sabbia, le cozze e le conchiglie sono rifatte a mano così come tutto fatto a mano. Il ricordo va a quello che sta succedendo sia dal punto di vista dell'inquinamento marino, sia anche per tutto quanto avviene in mare, per esempio in questo momento, con i tanti migranti che poi finiscono ad essere degli scheletri sul fondo. Quindi diciamo l'opera di Carlo Ricillo è molto complessa e si può leggere a molti livelli. Più andiamo in fondo, in questo caso in fondo all'oceano, e più troviamo significati. Però direi che queste installazioni sono molto forti e recuperano quello che è anche il ruolo dell'artista di coinvolgimento nell'evoluzione dell'idea della cultura dell'uomo e l'adesione al processo storico. che avviene nel suo tempo.